Anche se non dimentica che ci sono ancora dei contagi, Eric vuole passare qualche giorno fuori con la sua famiglia per cambiare di vedute e rilassarsi un po' dopo questi mesi. Visto che tutti a casa sono in buona salute, hanno quasi tutto pronto per andare in spiaggia domani. Alzati! Mani, maschera e gel disinfettante. È ora di andare. Anche se Eric è un po' preoccupato, tutti sanno che devono seguire le necessarie misure preventive. Quando arrivano all'albergo, notano che hanno adattato tutto ai nuovi standard sanitari e igienici. È fantastico! Quindi Eric e la sua famiglia continuano a mantenere senza sforzo tutte le misure di sicurezza e igiene. Rispettano le distanze, indossano una maschera nelle aree comuni e disinfettano le mani e gli oggetti personali. In camera lasciano le scarpe alla porta. Per i più piccoli è quasi come un gioco. Finalmente in spiaggia! Ora è tempo di divertirsi e rispettare le regole. Ah, indossa molta protezione solare. Prima di mangiare, una piccola nuotata in piscina. Anche se sono molto impazienti, sanno che quest'anno non possono giocare con altri bambini. Dopo una mattinata piena di emozioni, vanno a mangiare in un ristorante. Mani pulite e buon divertimento. La sera Eric e i suoi figli fanno una passeggiata e si fermano a comprare un gelato. Al ritorno in città, Eric può incontrare i suoi amici per un drink e raccontare loro la sua vacanza. Se seguiamo tutti l'esempio di Eric, insieme ce la faremo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!